Allora, oggi iniziamo il nuovo macro argomento che è la teoria dei grafi Quindi oggi parleremo di grafi, daremo un po' di definizione, partiamo proprio con le basi 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 Allora intanto cos'è un grafo? Un grafo è un qualche ente, chiamiamolo G, che è composto da un insieme di vertici, V, e un insieme di archi, E Come sono fatti questi insiemi? Sono due insiemi L'insieme V è un qualche insieme arbitrario, cioè è un insieme di cose Queste cose le chiameremo nodi Questi qua sono i componenti di V Li disegno come pallini E li chiamiamo nodi E sono un insieme di qualcosa E invece, quindi V è un qualche insieme arbitrario E invece è un insieme di coppie non ordinate di V Ovvero, E è un insieme di... non so come scriverlo bene in matematichese Ma praticamente, se facciamo finta che diamo un nome a ogni nodo E lo facciamo con dei numeri Quindi diamo uno, due, tre, quattro, cinque, sei... e sette Ok? E è un insieme di coppie di numeri dove l'ordine non importa Quindi vuol dire che potremmo avere, ad esempio, la coppia 0,1 Potremmo avere, ad esempio, la coppia, che ne so, due, tre Potremmo avere la coppia 6,7 Ok? Però se abbiamo già 6,7 non possiamo avere anche 7,6 Perché l'ordine della coppia non importa E quindi questo elemento ce l'abbiamo già Quindi non possiamo mettercelo due volte perché è un insieme In un insieme ogni elemento appare al più una volta Ok, quindi E è un insieme di coppie non ordinate di vertici Ma ci sono tutte? È un insieme che non è detto che debba essere tutto quanto Cioè non ci devono essere tutte quante le possibili coppie C'è un sotto insieme di queste coppie Ok? Con un minimo di abuso di notazione Con un minimo di abuso di notazione Se indichiamo come via al quadrato tutte quante le coppie Ok? E è un sotto insieme Possibilmente è tutto Possibilmente sono tutte le coppie Possibilmente nessuna O qualunque cosa in mezzo insomma E normalmente, graficamente Le coppie Il fatto che esista questo arco in E Cioè questa coppia di nodi in E Lo indichiamo con un collegamento Tipo avevamo 0,1,2,3,6,7 Ok? Quello insieme che avevo scritto prima là Lo indichiamo come degli archi Cioè questi segmenti tra i nodi Ho già usato un po' di nomenclatura qua Quindi gli elementi di V Li possiamo chiamare Intescavabilmente o nodi o vertici Invece gli elementi di E Quindi le coppie di V Le chiamiamo archi Ok? Questo qua Questa definizione qua Così come l'ho data Rappresenta la definizione di un grafo semplice Questo è un grafo semplice Adesso aggiungo qualche altro arco qua Giusto per dare un senso di graffitudine a questa cosa Che ne so, magari così Ok? Faccio un pochino più storto Così si vede che può passare Cioè graficamente poi possono passare anche uno sopra l'altro Non è importante Ok Allora questo è un grafo semplice Diamo un po' di nomi Intanto Allora Chiamiamo La cardinalità di V Quindi quanti nodi ci sono L'ordine del grafo Ok? Chiamiamo La cardinalità di V L'ordine del grafo Chiamiamo I vicini Di un certo nodo V Quindi N grande È la funzione vicini In qualche modo Chiamiamo la funzione Vicini di un certo nodo V Dove certo nodo V potrebbe essere Che ne so Due, cinque, sette Qualcosa L'insieme Dei vicini Di quel nodo Ovvero dei nodi Che sono collegati a lui Tramite un arco Quindi se ad esempio Dovessi Volessimo sapere Chi sono i vicini Di Che ne so Due Ok I vicini di due Sono Uno Quattro Sette E tre Ok Quindi chiamiamo Vicini di un certo nodo I nodi che sono collegati a lui Tramite un arco Chiamiamo Grado 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 Di un nodo Che si indica di solito Con uno D Chiamiamo Grado di un nodo La cardinalità Dei vicini Di quel nodo Ovvero il grado di un nodo È quanti vicini Ha Ok Quindi abbiamo dato un po' Di definizioni Un grafo semplice è questa Coppia V E Dove V sono i nodi E sono gli archi Dove i nodi Sono un insieme arbitrario E gli archi Sono coppie Non ordinate Di nodi Cioè coppie In cui l'ordine dei nodi Non è indifferente Questa cosa È un grafo semplice Diciamo che La cardinalità di V Ovvero la cardinalità Di un insieme È quanti elementi Ci sono in quell'insieme Lo chiamiamo ordine Quindi il numero di nodi È l'ordine del grafo Chiamiamo Vicinato L'insieme dei vicini Di un certo nodo Quindi quelli che sono collegati Direttamente un arco E chiamiamo Grado di un nodo Il numero di vicini Ok Vediamo adesso Un po' di varianti Del grafo semplice Ci sono due proprietà Che un grafo può avere Può essere orientato E può essere pesato Un grafo semplice È un grafo Che non è né orientato Né pesato Quindi quello di cui abbiamo Parlato finora Il grafo semplice È una cosa che non è Né orientata Né pesata Questo è il grafo semplice Se un grafo Ha la proprietà Invece di essere orientato E lo chiamiamo Grafo orientato O grafo direttamente Grafo direttamente E' un grafo direttato Cambiamo la cosa Che l'insieme E Non sono più coppie Dove l'ordine non è importante Ma diventano coppie Dove l'ordine è importante Nello specifico Nello specifico Se abbiamo Facciamo che questi qua Sono due nodi Il nodo 0 e il nodo 1 Se abbiamo l'arco 0 1 Allora Intendiamo una relazione In cui 0 può andare in 1 Ma 1 non può andare in 0 Quindi se avessimo Che so 0 1 0 2 E 1 2 Per dire Ok Cosa avremmo? Avremmo 0 1 Che è questo 0 2 Che è questo E 1 2 Che è questo Notare che a questo punto Essendo che l'ordine Ora importa Potremmo avere anche Quello dell'altra parte Potremmo anche avere 2 1 ad esempio E se abbiamo 2 1 Quindi Abbiamo anche In questa direzione In quest'arco Ovvero Possiamo anche vederlo Come Due archi diversi Uno che va da una parte E l'altro che va dall'altra A questo punto Ha senso Rivedere un attimo Le nostre definizioni Vabbè V Nel caso orientato La credenza di V Rimane l'ordine Anche nel caso orientato Però Il vicinato Possiamo vederlo Allora Sia il vicinato Che il grado Possiamo ancora Vederli Con la stessa definizione Dove Possiamo usare Il fatto che esista O un arco Che va in una direzione O nell'altra Quindi se usiamo ancora Questa definizione Di vicinato Vecchia Il vicinato Di 0 è 1 2 Il vicinato Di 1 è 0 2 Eccetera Perché Possiamo utilizzare Sia archi che entrano Sia archi che escono Ma Nel caso orientato Abbiamo anche Altre definizioni Che sono Il vicinato In uscita E il vicinato In entrata Dove Col più Intendiamo Il vicinato In uscita Ovvero I nodi Che possiamo raggiungere Tramite archi Che escono Dal nodo V Quindi per esempio N più di 0 In questo grafo È 1 2 Ed N più Di 1 In questo grafo È solo 2 Perché 0 Non lo posso raggiungere Con un arco In uscita da 1 Invece N meno È il vicinato In entrata Ovvero sono i mie vicini Che hanno un arco Che arriva Verso di me Quindi il vicinato In entrata Di 1 È 0 e 2 Invece il vicinato In entrata Di 0 È insieme vuoto Corrispettivamente Possiamo estendere Questa definizione Anche Per il grado In entrata E il grado E il grado In uscita Ovviamente La definizione è la stessa Però usano Il vicinato In entrata Il vicinato In uscita E il vicinato In entrata Ok Ricordiamoci che più Sono quelli che escono Meno sono quelli che entrano Ok Quindi un grafo Può essere orientato E nel caso sia orientato Quindi quello che cambia È che ora E Ha questa cosa Che gli archi Non sono più Bidirezionali In un qualche senso Ma Sono monodirezionali Vanno solo in una direzione Ok Un grafo Invece Quindi abbiamo parlato Di orientato Aspetta un attimo Dimmi Più è in entrata O in uscita Allora Più È uscita Meno È entrata Grazie Ok Quindi Il grado In entrata Di zero È zero Cioè il grado Cioè il grado in entrata Di questo nodo qua Del nodo zero È zero Il grado in uscita È due Ok Allora abbiamo parlato Di grafo orientato Vediamo l'altra proprietà Che è grafo pesato Se un grafo è pesato Allora Oltre a V ed E Abbiamo un'altra funzione F Ok Che associa A Ci sono due sotto casi In realtà Diciamo Allora Di solito pesato Ok Di solito pesato Vuol dire che Esiste una funzione F Che associa Ad ogni arco Un qualche valore Nei numeri reali Nei numeri naturali Ci interessa Cioè cosa vuol dire Che quindi Ogni arco Oltre a dare Una connettività Tra due nodi Ha anche Un qualche valore Che ne so Per esempio Potremmo avere Che l'arco Zero Uno Ha valore 52 Potremmo avere Che l'arco Due Quattro Ha valore 12 Di solito Graficamente Questa cosa La vedete come Un numeretto Sull'arco 52 12 Per esempio E normalmente Quando diciamo Che un grafo È pesato Vuol dire Semplicemente Aggiungere Questo attributo Questo numero In più All'arco E normalmente Nella stragrande Maggioranza dei casi In qualche modo Questo numero Rappresenta Una distanza Tra i due nodi In un qualche modo Quando il grafo Non è pesato Tutti quanti i nodi Collegati Sono a distanza Uno Invece Nel grafo Pesato In un qualche modo Stiamo dicendo Che è vero Che sono collegati Questi due Ma la distanza Tra questi due È più alta Che la distanza Tra questi due Però è solo Una possibile Interpretazione In realtà Il grafo pesato Sta solo dicendo Che c'è un qualche Attributo Sull'arco Ma il significato Ce lo diamo Poi noi Quando andiamo Ad affrontare Un problema Che trattiamo Come un grafo pesato Un altro tipo Di pesato Più raro È Il grafo pesato Sui Vertici Ovvero Un grafo pesato Sui vertici È un grafo Che ha una certa Funzione F Che associa A ogni vertice Invece di ogni arco Un valore Ovvero Un grafo pesato Mette dei pesi Sugli archi Un grafo pesato Sui vertici Invece Mette dei pesi Sui nodi Ovvero Oltre all'indice Del nodo Abbiamo anche Un qualche valore E Ripeto È un qualche valore Arbitrario Dipende Poi Da che problema Stiamo trattando Come Interpretare Questo numero E come utilizzarlo Per i nostri scopi Ok Ok Questa era solo Una carrellata Di definizioni Quindi siamo partiti Dal grafo semplice Ok Abbiamo definito Un po' Queste cose Abbiamo detto Che ci sono Queste proprietà Che sono Appunto Orientato Pesato 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 Che possono Essere Sono proprietà In qualche modo Boolean Possono essere Attive O disattive Possono essere Attive tutte Possono essere Attive un subset Potremmo avere Un grafo Orientato Pesato Potremmo avere Un grafo Pesato sia Sui vertici Che sugli archi Potremmo avere Un grafo semplice Cioè con nessuna Potremmo avere Un grafo Con tutte Quante Questa proprietà Quindi che è Orientato Che è pesato Se sugli archi Che sui vertici bisogna, quando poi vedremo problemi che vogliamo risolvere con i grafi, dobbiamo trovare il miglior tipo di grafo per modellare quel problema. Ok, ci sono domande fino a qua? No, ok. Allora, la cosa che vediamo oggi è, come facciamo a rappresentare un grafo? Cioè, come di solito, come possiamo tenere in memoria un grafo? Perché noi finora abbiamo visto come unica struttura dati che possiamo tenere in memoria, l'abbiamo visto quella dell'altra volta, quindi il restatico, l'eredinamico, la lista e quant'altro. In qualche modo vogliamo creare una struttura dati che riesca a tenere in memoria il nostro grafo, in modo che poi potremmo farci un po' di operazioni. Però la prima cosa che vogliamo fare è rappresentarlo. Allora, vedremo tre rappresentazioni di questo grafo. E oggi mi sa che ne faccio solo una o due, perché poi una è un pochino più complicatuccia. E le vediamo per tutti i casi possibili. Cioè, nel senso, vediamo come gestire il caso orientato, vediamo come gestire il caso pesato, eccetera, eccetera. Allora, le tre rappresentazioni che vedremo sono la matrice di adiacenza. Matrice di adiacenza, ok? Che è quella più semplice, che la vediamo subito. Poi vedremo le liste di adiacenza, che è il metodo più usato perché è un buon compromesso tra velocità di scrittura e performance. E poi, invece, ce n'è anche un altro, che magari facciamo, che la sigla è CSR, se non mi ricordo male. Che sta per Compressed Sparse Rose. Che è un altro modo, è un modo praticamente di comprimere la matrice di adiacenza. Questo Compressed Sparse Rose è un modo per comprimere la rappresentazione della matrice di adiacenza di un grafo. E in realtà, date certe assunzioni, diventa la rappresentazione ottimale che possiamo dare del grafo. Ok, quindi queste qua sono le tre che vedremo. Cominciamo con la più banale, che è la matrice di adiacenza. Allora, per ora consideriamo il caso in cui G è un grafo semplice. Quindi, se G è un grafo semplice, abbiamo semplicemente un grafo che è formato da nodi e archi, dove gli archi sono bidirezionali sempre. E non hanno un valore associato, neanche i nodi hanno un valore associato, i nodi hanno un certo indice e basta. Allora, un modo per rappresentare questo grafo, tante matrici di adiacenza, è questo. Supponiamo di avere una matrice n per n, dove n è l'ordine del grafo. Quindi abbiamo una matrice, in questo caso, 5 per 5 credo. Quindi, adesso fare la matrice sarà molto difficile. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ok, quindi questa matrice, cosa avrà? Avrà la colonna 0, la colonna 1, la colonna 2, la colonna 3, la colonna 4 la riga 0, la riga 1, la riga 2, la riga 3 e la riga 4 Allora, un modo... Allora, intanto, la prima domanda banale è come facciamo a fare una matrice? Che, intanto, ancora prima, cos'è una matrice? Una matrice è la generalizzazione bidimensionale di un vettore. Un vettore è un insieme di celle in una dimensione. Una matrice è un insieme di celle in due dimensioni. Come facciamo a fare una matrice? Beh, semplicemente possiamo fare un... Se per esempio dobbiamo farne una 5 per 5 fissata, quindi vogliamo esattamente 5 per 5, beh, un modo è fare un vettore statico, ok? Un vettore statico di 5 elementi, dove ogni elemento, a sua volta, è un vettore statico di 5 elementi. Questo è un modo per fare una matrice. Quindi facciamo un vettore di vettori, praticamente. Se vogliamo fare una matrice statica, allora, cioè se la dimensione la sappiamo già, possiamo fare un array statico di array statici. Se invece la dimensione è ignota e dobbiamo aggiornare o qualcosa del genere, beh, possiamo usare un vettore dinamico di vettori dinamici. O una cosa del genere, insomma. Comunque ce la capiamo sempre con un vettore di vettori. Ok, una volta che abbiamo questa matrice 5 per 5, un modo per salvare il nostro grafo in memoria è, ad esempio, mettere... Quindi sappiamo che gli archi sono rappresentati in una coppia di nodi. Ok, per esempio questo qua è rappresentato dalla coppia di nodi 0,2. Allora, in posizione alla riga 0 e alla colonna 2, ci mettiamo un 1. E questo lavoro lo facciamo anche per l'inverso. Quindi, essendo che questi archi sono bidirezionali, in un qualche senso, questo stiamo dicendo che può andare da 0 a 2 e può andare anche da 2 a 0, se ci possessimo spostare in questo grafo camminando da nodo da nodo usando archi esistenti. Allora, cosa facciamo? Sia una direzione che l'altra, la coppia ordinata questa volta dei nodi, guardiamo la riga della prima e la colonna della seconda e ci mettiamo un 1. Quindi 0,2 ci mettiamo un 1 e 2,0 ci mettiamo un 1 anche qua. Quindi quest'arco l'abbiamo fatto. 0,1, stessa cosa, mettiamo un 1 qua e un 1 qua. Poi abbiamo 2,3, quindi riga 2 colonna 3 e ci mettiamo un 1 e poi riga 3 colonna 2 e ci mettiamo un 1. Poi abbiamo 1,3, quindi avremo un 1 qua e un 1 qua. 1,4, quindi abbiamo un 1 qua e un 1 qua. E alla fine 3,4 e quindi abbiamo un 1 qua e un 1 qua. Ok, quindi cosa facciamo? Mettiamo un 1 in tutte quante le coppie che rappresentano un arco, che si dà in una direzione o nell'altra, perché in questo caso gli archi sono bidirezionali, e mettiamo uno 0 in tutte quante le altre celle. In questo modo abbiamo creato una matrice di 0 e 1, quindi abbiamo una matrice booleana, in un qualche senso. E questa matrice è la nostra rappresentazione in memoria del grafo. Perché? Beh, sappiamo quanti nodi abbiamo, perché è il numero di righe o il numero di colonne, tanto è una matrice quadrata, quindi il numero di righe e il numero di colonne è lo stesso. Sappiamo quali sono gli archi, perché sono... gli archi, essendo che sono coppie di nodi, sono le coppie di righe e colonna dove c'è un 1. E fine. E abbiamo quindi la nostra rappresentazione del grafo... del grafo semplice. Bene. Questa è la rappresentazione, notare abbastanza banalmente, che occupa uno spazio quadratico di memoria, occupa n quadro memoria. Perché? Perché dobbiamo, per ogni coppia di nodi, ci serve una cella della matrice e quindi da metterci 0,1 e quindi dobbiamo usare n quattro celle. Ok, e con questo però abbiamo gestito il caso del grafo semplice. Ora, quello che dobbiamo fare è vedere come rappresentare gli altri tipi di grafo usando una matrice di decenza. Come possiamo fare a rappresentare gli altri tipi di grafo usando una matrice di decenza? Per esempio, se il grafo non fosse semplice ma fosse orientato. Ok? Quindi abbiamo un grafo orientato, non pesato, non è solo orientato. Come facciamo a rappresentare un grafo orientato in una matrice di decenza? Domanda per voi. Beh, qua abbiamo messo due uni per ogni arco perché sono bidirezionali e lì si mette soltanto in una delle due caselle e l'altra si mette in uno 0. Bisogna decidere se quale, se magari le righe sono i nodi di partenza e le colonne sono quelli di arrivo. Perfetto, perfetto, esattamente così. Di solito per convenzione le righe sono i nodi di partenza e le colonne sono i nodi di arrivo, però è esattamente così. Quindi se noi avessimo ad esempio questo grafo, ora ne faccio uno un pochino più piccolo perché almeno così posso fare che faccio così, perfetto. Quindi abbiamo 0, 1 e 2. Abbiamo questo grafo qua. vogliamo rappresentare la matrice alla decenza. Quindi sarà una matrice 3x3. 0, 1, 2 0, 1, 2 Allora, quindi cosa abbiamo detto? Beh, gli archi a sto giro mettiamo l'1 solamente nella riga nodo di partenza e colonna nodo di arrivo. Quindi riga 0 colonna 1 ci mettiamo un 1. Riga 0 colonna 2 ci mettiamo un 1. Qua ce ne abbiamo entrambi quindi metteremo sia quello da 1 a 2 quindi 1, 2 sia quello da 2 a 1 e gli altri ci mettiamo uno 0. Perfetto e abbiamo la nostra matrice alla decenza per il grafo orientato. Vi faccio notare una piccolezza. Se il grafo non è orientato se il grafo non è orientato la matrice è simmetrica. Cosa vuol dire simmetrica? Che se la specchiamo per la diagonale cioè se la specchiamo per la diagonale ho fatto una diagonale terribile ma capite quello che sto dicendo spero la diagonale è questo 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 è questo elemento se la specchiamo per quest'asse è uguale questo vuol dire che è simmetrica invece in un grafo orientato la matrice non è simmetrica. Questa era una piccolissima osservazione. Ok bene caso orientato l'abbiamo fatto cosa facciamo se il grafo è pesato? Pesato ricordiamoci che pesato se non dico nient'altro intendo pesato sugli archi cosa facciamo se il grafo è pesato sugli archi? Domanda per voi Stefano S Stefano S Stefano C ma pensavo magari che per ogni per ogni casella della matrice si potrebbe si potrebbe fare un array di al posto di una casella si trasformano in array di due di due caselle così si mette da una parte lo 0 l'1 e per l'altra il peso perfetto perfetto allora in realtà possiamo fare un pochino meno concettualmente complicato però ci stava benissimo anche quello invece di avere una matrice ne abbiamo due cioè invece di avere solo la matrice di connettività abbiamo anche la matrice dei pesi così così con una matrice sappiamo se un certo arco esiste e nell'altra matrice scriviamo il peso di quell'arco mettiamo che qua per esempio abbiamo che ne so 3 2 5 7 ok nell'altra matrice cosa faremo 0 1 ci metteremo 3 0 2 ci metteremo 2 1 2 ci metteremo quindi 1 2 qua 1 2 ci metteremo 5 e 2 1 che quindi è qua ci metteremo 7 quindi basta che facciamo un'altra matrice e ci teniamo i pesi e e quindi il caso pesato sugli archi l'abbiamo fatto ovviamente le celle dove non c'è niente non ci interessa cosa ci sarà dentro tanto quest'arco non esiste quindi non ci interessa nel caso ovviamente per semplificare e molto spesso è così nel caso sappiamo che i pesi degli archi devono essere dei numeri maggiori di 0 beh allora possiamo usare una sola matrice e mettere 0 se l'arco non esiste e mettere il peso se l'arco esiste perché in questo modo possiamo controllare se è 0 allora non esiste se è maggiore di 0 allora quello è il peso ovviamente questo si può fare solo se nel problema sappiamo che gli archi se abbiamo un problema dove gli archi sono pesati e il peso è sempre maggiore di 0 se no non possiamo farlo se il peso può essere anche 0 allora dobbiamo per forza di cose fare la doppia matrice o trovare qualche altro trick per salvarci questa informazione in modo che non collida ok ultima cosa vogliamo gestire il caso pesato sui vertici caso pesato sui vertici come lo facciamo dimmi vado io sì sì vai vai al posto di una matrice per i pesi mettiamo un vettore per i pesi esattamente facciamo un vettore lungo n quindi facciamo sempre per riferito al grafo questo qua quindi 0, 1, 2 mettiamo che questi nodi hanno dei pesi facciamo che i pesi sono 7, 1 e 22 e quello che facciamo è che facciamo un altro vettore a parte dove ci mettiamo il peso dei nodi molto semplicemente fatto bene con questo abbiamo fatto tutte quante le rappresentazioni di una in matrice di decenza di i grafi nel caso orientato pesato sugli archi e pesato sui vertici bene direi per oggi ci fermiamo qui abbiamo fatto una lezione un pochino più breve ma va bene così ci sono domande? quando facciamo il grafo pesato con le matrice destra non potremmo fare semplicemente che quando c'è 0 non scrivo niente e quando c'è 1 scrivo direttamente il numero cioè se è pesato scrivo direttamente il peso altrimenti non si può niente ma ecco in realtà l'ho detta sta cosa cioè il fatto è questo se il peso se è pesato il peso maggiore di 0 sì possiamo assolutamente farlo ovvero mettiamo 0 se non c'è l'arco e mettiamo il peso se invece l'arco c'è ci mettiamo il peso di quell'arco questo lo possiamo fare solo però se il peso è maggiore di 0 se invece i pesi possono essere anche 0 eh no non posso più farlo perché se non lo 0 non so se è un arco che pesa 0 o se è proprio 0 il valore cioè se è 0 perché non c'è ok lo prendo comunque un sì ci sono altre domande ok bene per oggi abbiamo finito non c'è l'arco c'è l'arco c'è l'arco